Ministro Lupi, cosa mi dice sull'immigrazione, sulla sicurezza e la moschea? Guardi, qui il punto è, secondo me, che noi dobbiamo smetterla di mettere in contrapposizione due questioni che sembrano, sono esattamente tutte e due giuste. La prima è quella del diritto alla sicurezza dei cittadini, del diritto e del dovere da parte di uno Stato di far rispettare le sue leggi ai cittadini italiani come a qualunque cittadine che viene nel nostro paese, del ricordarci e del riconoscere quali sono la nostra identità, qual è la nostra storia. E dall'altra noi siamo un paese che è sempre stato accogliente, a condizione che ovviamente uno entri nel nostro paese rispettando le leggi e dando il proprio contributo. Quanti mio papà e la mia mamma sono abruzzesi e sono venuti a Milano immigrati per trovare un lavoro e hanno dato il loro contributo a far diventare grande questa città. Allora, sull'immigrazione noi dobbiamo essere molto chiari e anche sull'integrazione, integrazione, accoglienza, il punto è rispetto delle leggi e ognuno che dia il proprio contributo. Poi abbiamo questo dramma umano che o si comprende che non può essere dell'Italia, ma è dell'Europa e di tutta l'Europa, Lampedusa è il confine dell'Europa, non è il confine dell'Italia. E allora la questione dei flussi migratori che arrivano da quei paesi del Nord Africa deve essere gestito insieme, deve essere gestito insieme all'Europa e non può essere scaricato sull'Italia. Ecco, integrazione, accoglienza, rispetto delle leggi, riconoscimento di un'identità. Questo mi sembra che sia l'unica strada. Poi, ovviamente, ognuno che nel nostro paese rispetta le leggi ha diritto di poter professare la propria religione. Noi siamo un grande paese che rispetta tutti, no? Elezioni europee Si vota solo nella giornata di domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle ore 23. Nella circoscrizione Nord-Ovest, Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, barra il simbolo del nuovo centrodestra e scrivi lupi come preferenza.